Tristan Trista da Massimo Ciao, sono Filippo, ho 12 anni e ho scelto questo campo per conoscere meglio la protezione civile. In questi 5 giorni ci siamo dedicati sia alle attività divertenti sia alle attività formative. Questo è l'ufficio locale marittimo. Ci hanno fatto vedere l'uso delle radio e infatti ci hanno fatto fare delle prove che abbiamo chiamato in centrale con le radio. Durante questi giorni ci hanno insegnato a costruire una tenda e ci hanno detto come salvare una persona che si è sentita male e come spengere il fuoco. Il lavoro di squadra è molto importante perché il caposquadra ha bisogno della squadra e la squadra ha bisogno del caposquadra per coordinarsi meglio nelle operazioni e spegnere un incendio. Siamo anche noi protezione civile perché ancora non abbiamo raggiunto l'età per entrare a far parte dei volontari, ma dopo questa esperienza c'è molta probabilità che entrambe potremmo venire a far parte dei volontari della protezione civile. Io concordo con lei. Ciao.